Confiscata nel 2016 a una banda di trafficanti di droga, oggi un'intera palazzina a Sestu è stata consegnata dal prefetto di Cagliari, Gianfranco Tomao, ai carabinieri. Alla cerimonia hanno partecipato anche il comandante provinciale dell'arma, Cesario Totaro, la sindaca di Sestu, Paola Secci, e in collegamento da Roma l'ex prefetto Bruno Corda, adesso direttore dell'Agenzia Nazionale per i beni confiscati. Si restituisce un bene alla collettività dalla criminalità organizzata, ha sottolineato il prefetto Tomao, è una giornata molto importante perché si ribadisce il principio che alla fine i beni sottratti alla criminalità tornano allo Stato.